Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video annuncio in cui, come anche nelle ultime stagioni, andrò a regalarvi altri emblemi esclusivi e molto molto rari che sono sicuro piaceranno a tutti voi. Vi invito però a prestare molta attenzione perché le dinamiche questa volta saranno leggermente diverse. In ogni caso non preoccupatevi perché nei prossimi minuti vi spiegherò per filo e per segno dove, come e quando poter partecipare e poter eventualmente vincere il nuovissimo emblema Segui la Luce che è quello che vedete a schermo in questo momento. Diamo adesso un po' di date, di codici in totale da distribuire al Neo20 e li potrete ottenere su tre fronti differenti. Innanzitutto qua su YouTube, come anche le altre volte, vi invito a scrivermi nei commenti il vostro nome Bungie completo, quindi nome, cancelletto e le quattro cifre e lunedì 7 marzo contatterò personalmente i quattro vincitori. Secondo metodo, domenica 27 febbraio alle ore 13 pubblicherò sulla mia pagina Facebook, il link lo trovate in descrizione, un post in cui vi spiegherò le regole e anche su Facebook ci saranno ben quattro vincitori che verranno estratti anche in quel caso il 7 marzo. Ultimissimo metodo, mercoledì 2 marzo a partire dalle ore 21 sarò in diretta su Twitch e gli ultimi 12 emblemi verranno tutti distribuiti lì. Per quanto il metodo sia ancora da definire, molto probabilmente mi limiterò a inviarli in chat, nell'arco chiaramente delle 2-3 orette che durerà la diretta, per il semplice motivo che il focus sarà sui nuovi contenuti ed è anche il modo più immediato per partecipare. Dunque, facendo un velocissimo recap, 4 emblemi si potranno vincere qua su YouTube, nei commenti dovete lasciarmi il vostro nome Bungie completo e il 7 marzo estrarrò i quattro vincitori. Altri 4 emblemi saranno su Facebook il 27 febbraio alle ore 13 pubblicherò il post con le regole complete, anche in quel caso vi anticipo già però che i vincitori verranno estratti il 7 marzo. Gli ultimi 12 emblemi si potranno ottenere durante la diretta su Twitch, anche qui link in descrizione, mercoledì 2 marzo a partire dalle ore 21. Tutto chiaro? Penso proprio di sì. Ragazzi, per quanto riguarda questo video annuncio è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto per tanti contenuti a tema Destiny e soprattutto la regina dei sussurri, io vi saluto e vi auguro buona fortuna. Ciao a tutti ragazzi!